L'emergenza la possiamo considerare chiusa e abbiamo fatto anche le verifiche sulle ipotesi di apertura ancora della galleria Adige Garda, ma questo non è necessario, anche perché le strutture sono state in grado di utilizzare al meglio tutte le nostre capacità tecniche e le nostre dighe anche che abbiamo e quindi è stata gestita riuscendo a non dovere in questa seconda fase dell'emergenza ad aprire ancora una volta la galleria Adige Garda. Sostanzialmente gli interventi che ci sono stati nella notte hanno visto impiegati circa un milaio di persone, strutture della provincia, vigili del fuoco, permanenti, tantissimi volontari nelle varie valli del Trentino, a loro va il ringraziamento da parte nostra. Stimiamo circa 5 milioni di danni tra eventi accaduti, briglie da sistemare, strade da sistemare, smottamenti e quant'altro. Gli interventi reali sono stati una ventina, tanti nelle giudicarie, Val di Non, Val di Sole, Val dei Mocchini, Roveretto e Val La Garina. Credo comunque che il sistema sia stato in grado di gestire al meglio questa situazione di emergenza.